Arcore Tamburo abbiamo uno di Arcore Tamburo qui uno dei tanti uno dei tanti e quindi uno con la sua storia una sola e unica personale musicale ci parla un po di libertà movimento in ambito musicale ovvero sia quella libertà di movimento che ti spinge a muoverti spesso a cifre sempre più irrisorie soprattutto quando la tua band non è di uno ma è numerosa e con tutti questi numeri poi si comincia ad impazzire perché diventa difficile o forse è facile per altri motivi. Sì come dicevamo prima fuori onda cioè in realtà e gli Arcore Tamburo che sono un collettivo di chiamiamoli musicisti ma in realtà è di gente che ha voglia di fare questa cosa e veramente cioè è un collettivo che si è messo assieme per ragioni che vanno sono talmente lontane dalla questione economica che veramente per noi non c'è mai nessun problema cioè essendo così in tanti alle volte sul palco siamo dieci dodici capitato in quindici otto quando siamo in meno proprio chiaramente a malapena si copriamo le spese quindi in realtà è proprio veramente una una volontà che va al di là della questione economica e alcuni di noi sono anche sono persone che comunque suonano in realtà più piccole e più consolidate e hanno anche quindi dei ritorni economici ma è come ripeto fanno questa cosa così come la facciamo tutti proprio per una passione insita proprio nell'essere nella voglia di di dibattere che abbiamo un po tutti e quindi veramente la questione economica nel nostro caso è veramente lasciata andare proprio all'ultima posizione no non potrebbe essere altrimenti il passaggio degli ultimi decenni è quello da musica solida a musica sempre più liquida che per assurdo genera meno liquidi in solido come come è cambiato quali sono stati i segni proprio quelli diciamo quelle tacche che hai visto che proprio trasformavano tutto come una grande tempesta beh sai ci sono stati dei cambiamenti piccoli se vuoi ma grandissimi allo stesso tempo c'è di mese in mese quasi a cominciare da da dalle location che fanno i concerti quindi dai dai clubs che iniziavano avere meno canali al mixer iniziavano a non avere il mixer di palco iniziavano avere catering sempre minori iniziavano a dare cachet sempre più bassi cioè è stato un susseguirsi di di come si dice di avvenimenti che ti facevano capire che stava succedendo qualcosa di peggiorativo questo legato a mille mille situazioni mille cose da c'è soprattutto credo una questione culturale da quando il disco ha iniziato a non vendersi più a a essere disponibile digitalmente in internet c'è credo che con internet sia arrivata la la decadenza un po di questo mondo c'è da un lato internet ha portato una possibilità promozionale che non c'è che non c'è mai stata perché è una possibilità promozionale per tutti no abbastanza equo come però dall'altro ha portato una possibilità per tutti di avere le cose gratis e quindi di non capirne il valore quindi questo ha contribuito sicuramente alla discesa della questione poi sono dieci anni che si parla di crisi economica questo ha contribuito assieme cioè meno soldi che girano il primo ambiente che ne paga è quello che è considerato ahimè superfluo no quindi la musica è uno di questi purtroppo però è così e credo che bisogna capirlo accettarlo d'altronde viviamo adesso e non vent'anni fa e dobbiamo e dobbiamo appoggiarci a quello che c'è adesso così è una tua proposta per una maggiore libertà di music di movimento in ambito musicale anche anche da parte di colui che poi va a vedere i concerti semplicemente quel punto di incontro che potrebbero trovare sia le band che il pubblico come lotta tra virgolette comune per qualcosa di migliore per in tutto quello che riguarda un concerto e quello che questo può rappresentare ma ti dico secondo me adesso ci ho pensato abbastanza non è non è una cosa semplicissima in questo momento perché si possono dire tante cose andate a vedere i concerti perché bisogna pagare un po' perché però sai è sempre facile parlare quando ti ritrovi lì che dici vabbè vado a vedere un concerto e che perché poi me lo guardo domani sera su internet e il cui disco me lo ascolto stasera gratis e lo scarico e vado è oppure cioè è difficile dire secondo me l'unica roba è accettare la situazione e abbracciarla e fare qualche passo assieme alla situazione stessa e sono sicuro che cambierà secondo me l'unica cosa veramente intelligente che può fare la gente e ascoltare quello che ha dentro cioè perché se si iniziano a ascoltare i consigli dei giornali dei critici di questo quell'altro allora andiamo veramente in una direzione pericolosa ormai la critica musicale vale quanto l'asfalto cioè zero è meglio che ognuno decida da solo visto che c'è anche internet se una cosa gli piace o meno e si faccia condizionare molto poco dai giudizi di giornalisti inventati all'ultimo momento non tutti per l'amore del cielo cioè io credo questo cioè fidatevi molto più di voi stessi che secondo me almeno siete veri con il vostro gusto non so spiegare certo che sì e sappiamo che sapete che un giorno cambierà ma questa è un'altra storia è un'altra storia grazie uno grazie a te